Allora Coach, con quale spirito si ricomincia? Ma è un'altra avventura, l'anno scorso è stato un cammino bellissimo, quest'anno cercheremo di replicare anche se magari obiettivi diversi. A primo impatto ragazzi super, tutti disponibili, tutti pronti a migliorarsi, abbiamo scelto di fare una squadra giovane proprio per quello. Abbiamo tanta fame di iniziare, voglia di lavorare, i ragazzi che vengono in palestra un'ora prima dell'inizio dell'allenamento, quindi sono tutti segnali super positivi. Giovani di qualità? Abbiamo cercato di individuare giovani che avessero già qualche esperienza nei campionati senior, l'abbiamo trovati anche nei giusti ruoli e credo con le giuste caratteristiche, adesso c'è da farli migliorare in ogni aspetto e far fare un salto di qualità a loro e alla squadra. Gli avversari vedo che sono rafforzati anche in maniera considerevole? Lo sapevamo, è un campionato sicuramente che sale di livello, ci sono squadre che già erano molto competitive e molto forti, si sono rinforzate in giocatori di alto livello, sarà dura, sarà molto dura, però lo sapevamo già in partenza, quindi abbiamo vinto un campionato, lo sapevamo che lo step successivo era da rafforzarsi anche noi. Grazie. Grazie. Grazie.